3 febbraio 1969. Si riunisce al Cairo il congresso nazionale palestinese. Yasser Arafat è eletto presidente del comitato esecutivo dell'OLP, l'organizzazione per la liberazione della Palestina. George Abash, leader del fronte popolare per la liberazione della Palestina, rifiuta di partecipare ai lavori, accusando di moderatismo le altre organizzazioni. Grazie per la visione!